Una situazione quasi paradossale è quella riguardante il bus navetta notturno tra Ragusa e Marina nei weekend del periodo estivo proposto dai giovani democratici di Ragusa con i consiglieri D'Asta e Chiavola. A sottolinearlo lo stesso Mario D'Asta, capogruppo PD al Consiglio Comunale, ed Enrico Larosa, segretario dei giovani democratici di Ragusa, che aggiungono. Qualche giorno dopo la presentazione dell'ordine del giorno in cui si chiedeva l'istituzionalizzazione del servizio, era stato rilasciato un comunicato stampa dall'amministrazione comunale in cui si annunciava l'attivazione di un servizio di trasporto urbano da Ragusa a Marina dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 22, dal 26 luglio al 28 agosto, ma che viene successivamente modificato in servizio di trasporto pubblico a Marina di Ragusa. Queste modifiche sono visibili nella pagina Facebook del sindaco. In più, è grave la bocciatura della nostra proposta sulla necessità di avviare una campagna di prevenzione sul brutto fenomeno dell'alcolismo, fenomeno presente tra i giovani che fanno spesso abuso. Grande confusione dunque, aggiungono D'Aste e Larosa, che si è manifestata in modo ancora più chiaro lunedì scorso, 4 luglio, quando in Consiglio Comunale è stato discusso l'ordine del giorno, bocciato dalla maggioranza, poiché, come ha sostenuto qualche consigliere grillino, si tratta sì di un servizio utile in linea con gli interessi del Movimento 5 Stelle, ma ormai attivato dall'amministrazione. Inoltre, lo stesso consigliere comunale sottolineava come gli orari proposti potessero sovrapporsi ai orari dell'Agenzia Tumino, che notoriamente termina i suoi servizi verso le 21, ma che, paradossalmente, sono in concomitanza proprio con gli orari proposti dall'amministrazione. I consiglieri grillini, pertanto, smentiscono loro stessi, dichiarano ed il Sindaco. Consigliamo dunque alla maggioranza tutta di incontrarsi e chiarirsi le idee su questo importante tema, aggiungono i due esponenti del PD. Ricordiamo infatti che sono state raccolte più di mille firme. Reputiamo ancora, in linea con le nostre proposte, che il servizio vada esteso anche a luglio, che l'orario vada prolungato fino alle 4 e ospichiamo che l'amministrazione si adoperi nell'attivazione di campagne di prevenzione contro l'alcolismo.